buonasera e bentornati a una nuova puntata di bundes italia talk con me giorgio dusi oggi c'è gianmarco galliangeli ciao gian ciao gian saluto a tutti quanto ti mancano robe jo da 1 a 10 10 più di 10 più di 10 più di 10 oggi siamo in formazione iper ridotta anche perché diciamo volevamo essere coerenti visto che parliamo di zwait siamo in due potremmo potremmo dire in maniera molto paracula peraltro invece no non è non è questo il motivo per cui per cui siamo siamo solamente in due ma in ogni caso c'è tantissimo di cui parlare anzi oggi poi sapete che noi a noi le puntate le puntate speciali zwait e gasano abbastanza e quindi insomma siamo siamo veramente veramente carichissimi in realtà jo non c'è ma rob in qualche modo ha trovato comunque in modo di esserci perché oggi gli ho chiesto rob ma visto che stasera non ci sei perché non non ci parli un po di qualcosa di storico di relativamente alla alla zwait e magari qualcosa solo jane regensburg e rob che ovviamente come sempre è uno che è diciamo che se gli dà il dito poi la mano se la prende ed è la nostra grande fortuna è chiaro questa ha fatto un meraviglioso intro in cui ha fatto un po' un riassunto anzi meglio un indice di quello un sommario di ciò di cui andremo poi a parlare approfonditamente quindi mi taccio e do la parola a rob che oggi c'è ma non c'è anzi in realtà c'è eccolo qua in una zwait e bundesliga dove è la tradizione che dovrebbe regnare vive regna una squadra che tradizione non ce l'ha o ce ne ha pochissima la squadra che ha giocato molto poco in zwait e ha visto per tantissimi anni in nelle serie minori e che è una delle tante squadre bavaresi che giocano nel caccio professionistico e stiamo parlando lo jane regensburg appunto la squadra di ratisbona città del sud della germania una squadra che già qualche anno fa era arrivata all'onore internazionale per una ragione molto semplice uno per il suo nome perché porta il nome di Ludwigian che è l'uomo che ha fondamentalmente inventato la ginnastica come la intendiamo noi o meglio e ha parlato e ha spiegato al mondo la ginnastica è veramente tedesco e poi perché qualche anno fa è stato il killer calcistico del manaco 1860 che dall'ora in poi gioca nella categoria più bassa infatti era la squadra che guidata da Eiko Ehrlich ex attaccante tra gli altri del Borussia Dortmund che è scesa che guidava la squadra e l'ha fatta scendere diciamo che lo jane è una delle tante favole che ci può regalare la zwaide francamente non so quanto potrebbe reggere sappiamo che l'anno scorso il Grotterfurt con una squadra leggermente superiore è arrivata a rampicarsi in Bundesliga tra l'altro diciamo che in questo inizio di campionato ci sono state diverse storie da raccontare una è la risurrezione della Dinamo Dresda una squadra che ha fatto la storia del calcio della Germania Est e del calcio della Germania Unita e che dopo anni dopo un anno di purgatorio in dritta liga con addirittura un cambio di allenatore a pochi minuti dalla fine per poi a ritornare e poi abbiamo rivisto una squadra che ha una grande tradizione è una buona squadra con tanto talento che davvero può diventare una mina vagante e poi abbiamo abbiamo il San Paoli che mentre tutti aspettavano l'ambuloga non sta facendo per non sta facendo malissimo anche se fa qualche sta facendo qualche suicidio come al solito diciamo che è interessante perché è guidata da Bruce Taller di cui noi abbiamo sempre detto probabilmente potrebbe essere non dico il Terod della non dico come Terod ma si chiamerebbe davvero un attaccante di categoria 1 che Inzfighter ha sempre detto su a proposito di Terod diciamo che a proposito di Terod e lo Schalke lo Schalke ha praticamente aperto il supermarket e diciamo che invece Terod continua a segnare ed ha pochissimo da prima agganciare Karl-Heinz Modrat e poi superare Dieter Schneider che è l'attaccante che ha fatto più gol nella storia della Bundesliga e mancano ormai pochi gol e se va a sto ritmo poi per il resto diciamo che il Werder è possiamo dire vittima di tutto quello che sta succedendo intorno e poi abbiamo tantissime squadre che ancora non hanno trovato né un'identità ma soprattutto non si sono ancora fissate le gerarchie e sappiamo che in Zfighter come in tutto il calcio tedesco forse tranne proprio in Bundesliga le gerarchie non sempre sono chiare La Zfighter di gerarchie non chiare direi che è abbastanza il punto conclusivo dell'introduzione di Rob ed è anche poi un po' il punto chiave di cui adesso andiamo a parlare Anzitutto direi di partire dalla classifica andiamo a vedere un attimino qual è la situazione così ci facciamo un po' subito un'idea partendo dalla vetta che come diceva giustamente Rob è occupata insolitamente da una squadra che normalmente non vedremo lì ma vedremo più in basso c'è lo Jan Regensburg che ora lo vediamo a 12 punti con una sconfitta ma in realtà quella sconfitta è arrivata solo nella scorsa giornata era 4 vittorie su 4 prima poi il Paderborn secondo a 11 punti imbattuto poi c'è nel San Paolo e la Dinamo Dresda insieme a 10 il Nuremberg a 9 il Krasuroe e il Werder a 8 il Darmstadt e lo Schalke a 7 l'Hamburg e l'Eidenheim che è accoppiata a 6 poi una sfidza di squadre a 4 cioè il Fortuna Düsseldorf, Lanzarostock, il Sandhausen, l'Holstein-Kiel, l'Ingolstadt e l'Annofer e poi in fondo ultimo in classifica c'è l'Ersgebirg-Awe a 3 l'havano detto che per l'Ersgebirg questa poteva essere un'annata particolarmente complicata ed effettivamente fino adesso possiamo tranquillamente dire che lo è stata prima di partire cominciamo con un paragone che Elia fa tra Italia e Germania un ponte, una specie di ponte dicendo che Terod lo paragonerei in tutto e per tutto a Cacia per pochi è un paragone interessante sicuramente dunque partiamo con abbiamo dei problemi di trasmissione a me fa vedere un po' di lag non so se sono io personalmente il problema o se invece sta effettivamente laggando però un attimo farla ripartire così no adesso sembra che vada bene ok 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 perfetto benissimo perché almeno abbiamo risolto subito anche anche questo anche questo problema no dicevo che c'è Capolista una squadra che che oggettivamente non ci saremmo aspettati e tra l'altro Elia ci dice subito arrivano quattordicesimi se se va bene è bello vedere che c'è ottimismo intorno allo allo Ia Regensburg che possiamo tranquillamente dirlo una sorpresa al comando è ovviamente il titolo di questo di questo di questo discorso che faremo sull'Ian inutile dire che non ce l'aspettassimo no? beh diciamo che non arriviamo a tanto siamo stati abituati siamo stati abituati a queste sorprese ma così tanto era era francamente difficile immaginarlo comunque abbiamo visto a parte la partita contro contro il San Paoli che San Paoli che Burgstaller ha fatto effettivamente quello che voleva hanno hanno comunque una rosa tutto sommato discreta a me piace molto il paragone che ha fatto Rob prima cioè una squadra tutto sommato sul livello del furf che può provare a fare un'impresa tutto sommato simile chiaro che poi a guardarli ad oggi che mancano ancora tantissime giornate perché ricordiamo ne sono passate solo cinque magari quattordicesimi non ci arrivano però è probabile che le squadre più forti alla lunga possano venire fuori però ecco diciamo che giocano sull'entusiasmo e quello mi sembra la cosa migliore che possa succedere soprattutto in un campionato come la Zweite se dovessero continuare così nulla è precluso chiaramente sembra una frase fatta però ma come in questo caso potrebbe essere vero vediamo che cosa succederà poi il vero banco di prova per la Zweite ma come per tutti i campionati diciamo intorno alla decima giornata là iniziano a allinearsi per i valori se intorno alla decima loro continueranno a essere così in alto è chiaro che un pensierino o due ce li fai anche per una possibile promozione anche perché poi come sappiamo in Zweite cioè nel senso si viene promossa con 60 punti sono 34 giornate ma non serve con una media di due punti a partire sei sicuramente promosso sostanzialmente il trend degli ultimi anni è questo ma potrebbe anche bastare non di un punto e mezzo però con la media di 1.7 1.8 non dico che sei abbastanza sicuro però ecco ci ci vai esattamente sei mai stato a Ratisbona? cosa? sei mai stato a Ratisbona? no purtroppo no gran bella città non è che ne abbia ricordo perché oddio in realtà sì in realtà no perché è stata l'ultima volta che sono stato in Germania prima che ci rinchiudessero tutti in casa per motivi per motivi piuttosto noti ma è molto particolare al di là della città che è bellissima c'è un duomo fantastico in centro città e soprattutto c'è il Pantheon di fatto che chiaramente non è il vero Pantheon ora mi sfugge il nome il nome tedesco Rob mi bacchetterà la prossima volta però insomma che domina la città dall'alto e praticamente ci sono dentro tutti i busti dei grandi della storia tedesca scrittori musicisti insomma veramente chiunque sia legato alla storia della Germania abbia fatto la storia della città gran bella gran bella città non sembra cioè non sembra non diresti che è una città in cui il calcio va così forte lo stadio è molto bello è molto fuori si vede dalla strada è molto periferico rispetto alla alla città è una struttura molto moderna devo dire la verità non sono potuto entrarci però tra l'altro ho la maglia nell'armadio adesso che mi è venuto in mente quindi spero che vincano cos'è meno posso fare un po' di bandwagoning quest'estate erano delle poche maglie improbabili se vincono andiamo a fare il podcast da lì chiaro? ah beh sì chiaro chiaro se vengono promossi qui lo diciamo qui lo promettiamo se lo Jan Regersburg viene promosso andiamo a Regersburg a fare il podcast fuori dallo stadio qui lo diciamo e segniamo c'è lei questa cosa anzi me la segno subito così almeno se lo Jan Regersburg vince il titolo andiamo a fare il podcast esatto al Valalla bravo ecco vedi il Valalla mi sfuggiva mi sfuggiva il nome no comunque parliamo un attimino della squadra perché è una squadra c'è un commento che ci arriva che parla di di progettualità ecco secondo me il discorso progettualità è molto centrato parlando dello Jan Regersburg perché l'allenatore si chiama Selim Begovic ed è ovviamente uno sconosciuto ai più ed è a lui a Regersburg dal 2006 prima come giocatore poi come allenatore delle giovanili poi come vice allenatore e poi è arrivato ad essere il capo allenatore dopo l'addio di Bayer Lorzer nel nel 2019 una salvezza non tranquillissima una salvezza molto tranquilla e poi questo exploit dall'inizio alla fine questa c'è questa strategia di crescere gli allenatori in casa a te piace perché alla fine oggettivamente non ha sempre ottimi risultati però secondo me poi è molto legato al fatto anche in parte quello dicevi tu delle finanze della squadra perché comunque avere la possibilità di poter crescere un allenatore che magari può portarti in rosa anche dei volti che sono stati come in questo caso dell'Academy dell'Under 23 e della seconda squadra può essere sicuramente un punto a favore però è chiaro che poi anche là il discorso è bisogno vedere se il materiale tecnico umano dell'allenatore in questo caso in questione è valido diciamo che qua c'è stato anche un buon punto a favore della squadra che è stato quello di prendere dei giocatori impressi molto interessanti su tutti i single che ha fatto vedere già qualcosa molto interessante con la seconda squadra del Bayern Monaco è che quest'anno si sta confermando un giocatore di assoluto livello perché comunque in cinque partite uno che ti fa due gol e tre assist vuol dire di fatto che se andiamo a fare un calcolo molto freddo e subito che parti dall'1 a 0 se lui è in campo e questo ovviamente fa tutta la differenza del mondo soprattutto se dovesse trovare costanza in un campionato che poi come abbiamo detto 1.7 punti a partita sali sicuro può fare tutta la differenza ma in generale è una squadra che sta molto molto attenta sul mercato chiaro come abbiamo detto prima non è una di quelle che parte favorita per arrivare anche fino in fondo però se singa a questo poi loro sono sempre molto attenti all'herst divise sono parecchi giocatori irlandesi che vengono all'herst divise fai due più due una società che comunque con le poche finanze che ha cerca sempre di stare molto attenta può veramente realizzare il miracolo in questo lato si parlerebbe effettivamente di miracolo che so che roba non apprezza molto non è un fan no è vero non è un fan della parola miracolo però oggettivamente per quelle che sono le aspettative nel senso ora se andassimo se andiamo anche a vedere un pochino quelle che sono state le cessioni più importanti diciamo così quando è che lo Jan Regersburg ha fatto ha fatto cassa grossa la cessione record è quella di Adam Jan che gioca all'Offenheim in Bundesliga fa la riserva ma hanno incassato un milione e mezzo è una cifra comunque bassissima cioè non dico ridicola ma voglio dire non è una squadra che magari comunque tira fuori dei giocatori particolarmente forti e poi da lì da lì sei bravo perché incassi vendi bene e poi ti ricostruisci strutture così è proprio una squadra che oggettivamente come diceva anche prima Rob è sempre stata di fatto nelle serie minori tanta dritte e si è ritrovata lì in Enzweid non dico per caso perché comunque se l'è meritata ha fatto le scelte giuste ci è passato anche Aiko Herrlich come diceva giustamente Rob che tra l'altro da lì poi è andato direttamente ad allenare il Bayern Leverkusen un bel saltino che non che non non sottovaluterei e tu hai citato giustamente Zing ma di giocatore in prestito tra l'altro Zing l'avevamo anche nominato nella puntata in cui avevamo introdotto la stagione in Zweite a fine luglio ma ci sono anche giocatori interessanti come David Otto attaccante dell'Offenheim in prestito anche lui che insomma se ne parla molto bene c'è Best del Werder Brema anche lui molto interessante poi c'è Jan Elvedi che è il gemello di Nico Elvedi del Gladbach non gioca molto e poi c'è Gimber che è il capitano è un 97 il capitano ma magari ne avete sentito parlare perché lui come Besushkov che sono un po' la coppia di centrocampo il Mur direi di centrocampo era un giocatore che ha fatto tutta la trafia delle giovani della nazionale tedesca e poi alla fine non è riuscito mai ad andare oltre oltre l'Under l'Under 21 e tra l'altro qui leggo anche un commento e mi e mi connetto è una squadra che gioca con un 4-4-2 non mi piace ma non piace dire molto semplice però voglio dire non è una squadra che ha un gioco particolarmente complicato da codificare diciamo così e lì ci dice per me il livello in sveita si è abbassato molto ma neanche a livello di non vi parlo più che alto a livello di mancanza di progetto o anche delle nobili decadute allenatori scandalosi ecco staglie di giocatori buttati in campo a caso ecco ora magari lo Jaregsburg da qui a fine stagione le perde tutte però per quello che si è visto in queste prime 5 partite c'è un calcio codificato è una ricetta vincente sì assolutamente diciamo che il commento di Elia secondo me è vero in particolare analizzando magari la questione proprio delle nobili decadute perché abbiamo visto soprattutto c'è l'Hamburgo che ormai giove sul bagnato e quindi citarlo fa quasi male però comunque abbiamo visto fare delle scelte eh sì proprio dito nella piaga e gira 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 però no abbiamo visto fare delle scelte delle scelte scelerate molte volte e questo sicuramente è il motivo per cui continua a stare in sbaglio e non riesce a salire e tra l'altro se le cose dovessero mettersi così anche quest'anno insomma sarà molto dura e tra l'altro una cosa molto simpatica tornando su Regensburg è che oltre oltre agli Anel Vedi questa è un po' la squadra dei fratelli di quelli forti mi sento di dire perché tempo fa ci giocò il fratello di Schweinsteiger che poi fu acquistato dal Bayern sempre con la solita la solita teoria che torna che torna a popolare i podcast diciamo che essere il fratello di qualcuno spesso è abbastanza è abbastanza d'aiuto Tobias Schweinsteiger ma poi veramente di nomi ne sono passati pochi cioè anche vedendo un po' la storia delle eccezioni recenti nel senso ci sono i fratelli Zirais tra l'altro sono gemelli anche loro forse c'è Stolze che adesso gioca nell'anno perché è una cessione fresca poi dopo ci arriviamo all'anno per forse lui non ha fatto la scelta migliore che potesse fare c'è Knol che gioca nel San Paolo in questo momento c'è il Gadui che fa la riserva d'attacco allo Stoccarda però comunque non sono sicuramente nomi di spicco poi è anche vero che abbiamo visto l'anno scorso l'Eidenheim anzi due anni fa l'Eidenheim arrivare fino allo spareggio allo spareggio promozione di fatto senza senza avere grandi nomi quindi io sai mai che magari sia veramente quella la insomma da qualche parte poi inizia a costruire magari è Bezushkov la prossima cessione Lelieci che hai detto bene è una politica risparmio ma dove ti porta cosa cosa pensi di rispondere penso che parli ancora degli allenatori che vengono cresciuti in casa ma beh ripeto è sempre questione poi dell'allenatore del modo in cui è in grado di far giocare la squadra perché molte volte soprattutto nelle categorie inferiori quello che può fare la differenza è proprio il modo in cui sai far quadrare la squadra cioè un 4-4-2 come vi ho detto prima più che semplice potremmo definire efficace può pagare se il livello della rosa non è così particolarmente elevato il tasso tecnico insomma non è particolarmente brillante è chiaro che per una società come lo Jan Regensburg già soltanto salire in Bundesliga cioè sarebbe una cosa incredibile poi poco importa fare 20 punti magari la stagione dopo o magari neanche arrivarci a 20 punti cioè già solo arrivarci per loro è una roba che non ha senso ma anche a livello delle finanze cioè nella progettualità di queste squadre che ricordiamo abbiamo detto prima giocatori fortissimi non ce ne sono mai stati giocatori che hanno anche fatto una carriera particolarmente buona in Bundes pochi la progettualità quindi la progettualità per queste squadre è anche avere la speranza di poter arrivare un giorno in Bundes farsi con solo quell'anno di Bundes praticamente gli introidi che si farebbero con 10 anni di zvaite e a dare una forte accelerata al processo di crescita e per una squadra come lo Jan sarebbe veramente oro colato poi chiaro insomma parliamo di di una squadra che verosimilmente da qui a 5 anni sarà una certezza la Bundesliga perché mi sento di poter dire che non sarà così a meno di grosse cose però sarebbe veramente oro colato per le finanze della socialità tra l'altro sarebbe l'ennesima squadra bavarese visto che ci sono in questo momento ci sono l'Augsburg il Bayern ovviamente e il Grotterfurt in cui ci potrebbero essere Nuremberga e eventualmente lui a Rikus perché insomma il feudo bavarese in Bundesliga potrebbe potrebbe crescere ancora di più a Nuremberga ci arriviamo dopo prima tu stavi dicendo giustamente questa cosa del fatto di andare in Bundesliga essere promossi magari non rimanerci ma valorizzarci ecco il Paderborn questa cosa a cui qualche anno avevo un po' di problemi a capirla visto che dopo la prima promozione del 2014-15 se non vado errato è retrocesso subito in Zweite poi subito in Dritte poi è stato salvato dal fallimento del 1860 e qua tornare in crocio con Regensburg anche se era un altro spareggio da Regen in Liga e da lì è stato ripromosso in Zweite è stato ripromosso in Bundesliga sotto Stephen Baumgart retrocesso l'anno scorso e quest'anno è ancora lì novità e confermo ho detto è quasi non proprio la stessa però insomma tanti elementi sono gli stessi che c'erano anche in Bundesliga anche questa dobbiamo dire è un po' una scelta particolare che ha fatto la società di insistere comunque certo gli migliori sono andati via però una buona parte del gruppo storico comunque lì dà 4 o 5 anni non è una cosa comune no assolutamente anzi diciamo che alla fine il giocatore che doveva andare via di fatto è andato via che era appunto Sebastian Basiliadis che è andato all'Arminia e era quello che poi ci aspettavamo l'abbiamo detto anche nello scorso podcast che potesse fare qualcosa in più anche con il Paderborn stesso non l'ha fatto ha perso anche un giro successivo in Svaite e il Paderborn ha detto ok cioè non ci sono i presupposti per poter andare avanti anche perché immagino Basiliadis abbia anche bussato alle casse della società alla porta della società per cercare insomma di migliorare il proprio contratto considerando che comunque è un giocatore di ottimo livello per la Svaite però sì il gruppo è rimasto lo stesso e puntualmente loro cercano di migliorare leggermente la squadra con qualche colpo a effetto e qualche ritorno carino per esempio quest'anno sono andati a prendere Stieperman dal Norwich che sappiamo comunque essere una una certezza soprattutto per quanto riguarda la Svaite lui che Academy Academy del Borussia Dortmund ha fatto già 171 presenze in Svaite diciamo che vanno a inserire parzialmente qualche giocatore magari anche Hoyer per esempio dal Wolfsburg che può essere magari un punto di riferimento per la stagione ma il nucleo storico è rimasto quello che è e secondo me soprattutto per una squadra che come ormai siamo abituati a sentire dire negli ultimi anni soprattutto non è il caso del Palermo ma loro si augurano di poterlo diventare una squadra ascensore questa può essere una cosa che può fare molto molto bene perché comunque va bene la delusione della retrocessione ma se il gruppo storico il gruppo che ti ha portato ad arrivare in Bundes se riesce a sostituire bene quei due tre piedine riesce a trovare comunque una squadra particolarmente interessante e sono bravi anche a scegliere anche gli allenatori perché a parte vabbè ovviamente Breit e Reiter l'anno della prima promozione Stefan Baumgart che adesso ce lo godiamo sulla panchina del colonio con quella meravigliosa coppola in testa è stato ovviamente l'uomo delle due promozioni consecutive è rimasto anche l'anno scorso tra l'altro e ha fatto molto bene il suo sostituto è non dico una scelta particolare però parliamo di Lukas Kvasniak che era l'ex allenatore del Serbriken che ha fatto la semifinale di Depe Pokal nel 2020 promozione l'anno scorso ha fatto la dritte una stagione super per quelle che erano le aspettative le aspettative della squadra possiamo dire tranquillamente super ed è anche lui ha 40 anni se l'imbego vicino a 39 lui ne ha 40 ha pochissime esperienze a livello professionistico anche questo secondo me è un dato che che dovrebbe anche far riflettere tantissimi allenatori guardando un po' alla vetta della classifica lo sto notando soltanto adesso perché anche quella di altri due squadri che andremo a parlare tra poco sono allenatori sono allenatori giovanissimi possiamo dire un po' che il Paderborn da questo punto di vista può essere un esempio da seguire nel senso che ti dimostra che con l'allenatore giusto sostanzialmente anche con un budget sostanzialmente ultra ridotto con dei valori tecnici che è ovvio sono molto bassi tu puoi comunque affrontare una sezione di Zweite cioè quello che quello che diceva prima con delle squadre quello che diceva prima Elia con delle squadre che tutto sommato non hanno un'idea chiara a volte mettere lì qualcuno con delle idee chiare come Quals può essere veramente la carattura vincente io assolutamente ma tra l'altro anche il discorso che riprendevamo del far crescere l'allenatore in questo caso prendi un allenatore che ha fatto già bene in una piazza in cui nessuno si aspettava di fare così bene avere la possibilità per lui di fare un anno di apprendistato due anni di apprendistato magari in Zweite per poi puntare a salire di categoria con quell'allenatore e tenerlo per la Bundes chiaramente è una cosa che può fare tutta la differenza del mondo e soprattutto perché come dici giustamente tu qua con Manzoglio c'è il classico discorso delle casse che non è che sorridono particolarmente ricordiamo che dopo la promozione quando ci fu la doppia retrocessione poi salvata appunto dal fallimento del Monaco la crisi finanziaria del Paderborn era forte 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 c'è stato veramente il rischio che potesse scivolare ma ancora più giù della dritta quindi mai come quell'esperienza gli ha fatto capire di dover stare particolarmente attenti dal punto di vista economico e le mosse da questo punto di vista sono state particolarmente geniali dato che comunque è stata un'altra promozione e visto come stanno andando le cose magari chi lo sa che non possa arrivare addirittura una terza ma l'hai buttata lì gliel'hai tirata ai ragazzi adesso la tiriamo un po' anche al Nuremberg che negli ultimi due anni ha avuto oddio l'anno scorso è stata una salvezza però era più una squadra che puntava ad arrivare a metà classifica si è trovata un po' più sotto ma non ha mai veramente rischiato la retrocessione secondo me due anni fa invece la retrocessione è andata tanto così praticamente ha un gol al 94esimo nello spareggio con l'Ingolstadt che l'ha salvata miracolosamente quest'anno invece con una rosa enormemente simile a quella dell'anno scorso è un allenatore che si chiama Robert Klaus ed è un ragazzo di 36 anni assistente di Nagelsmann all'Ipsia per un anno e poi immediatamente lanciato a Nuremberg come cap allenatore con un'idea di calcio molto molto chiara cioè praticamente c'è questa cosa che Nagelsmann a 34 anni ha già i suoi discepoli tra Matarazzo e Klaus tutto normale giustamente ma tra l'altro questa qua è una cosa che ricorda tantissimo il mondo NBA dove gli assistant coach dei coach che iniziano a fare bene subito uno qua uno là questa qua è una cosa che appunto lì ha avuto molto successo negli Stati Uniti quindi magari è un modello che si può anche replicare nel mondo del calcio abbiamo visto tra l'altro già già che questa diffusione tutto sommato non è andata neanche malissimo e Nuremberg prima parlavamo di squadra ascensore è stata è la squadra ascensore veramente per antonomasi del calcio tedesco non ricordo se forse con la promozione dell'Arminia i due anni fa l'ha raggiunta o l'ha superata però comunque parliamo delle due squadre che si divertono proprio a salire e scendere c'è poco da fare sì sì ne hanno fatto uno stile di vita ne hanno fatto uno stile di vita possiamo dire tranquillamente assolutamente che poi tra l'altro se uno pensa magari al Nuremberg che ha avuto anche delle stagioni di altissimo livello anni e dietro è un po' è un po' grottesca la situazione che hanno vissuto l'anno scorso però quest'anno si sono presentati con la stessa squadra sicuramente ma c'è già il primo giocatore di culto di questa puntata che è Massimo United 2 gol 0 spedito subito via però invece ha iniziato molto bene quest'anno ne ha giocato tutte cinque a titolare subito due assist e sta molto importante per la bioestagione di Nuremberg quindi ecco sicuramente è un giocatore su cui stare attenti e magari a 26 anni ha trovato anche a maldita calcistica che un po' si augurano tutti i fan di Football Manager non posso sapere il mio giocatore di culto però devo dire sinceramente è un altro ed è Fabian Nuremberger perché si chiama abitante di Nuremberga sostanzialmente è nato a Nuremberga gioca nel Nuremberga e a conclusione tutto questo sulla maglia lo sponsor è tipo città di Nuremberga quindi sostanzialmente c'è davanti e dietro a Nuremberger non puoi non puoi sostanzialmente non riconoscere tra l'altro è anche un ottimo giocatore ma è uno dei tanti in realtà perché anche gli anni scorsi gli ultimi due anni guardavo alla rosa oggettivamente facevo fatica a dire com'è che stanno andando così male poi sono tantissime cose che possono succedere però l'anno scorso c'era Tom Kraus centrocampista dell'Ipsia che è ancora lì in presito molto interessante c'era Robin Hack che adesso è andato all'Armenia all'Armenia Bielefeld Handwerker terzino sinistro molto interessante che ha fatto l'Under 21 negli scorsi negli scorsi anni quest'anno hanno giunto un paio di elementi interessanti un altro dall'Ipsia Borkowski che è un attaccante che sta alternandosi con il giovane che non mi viene il nome come si chiama l'attaccante che sta facendo adesso il titolare che è delle loro giovanili e anche Manuel Manuel Scheffler che era un po' l'uomo che doveva portare la squadra la promozione dell'anno scorso l'ha un pochino un pochino mancata è una squadra giovane è interessante per ora sta facendo bene ed è una novità perché gli altri anni solitamente partiva malissimo è vero che in Zweite chi parte bene non è a metà dell'opera funziona ovunque tranne in Zweite però insomma secondo me Nuremberg è una delle delle realtà da seguire io lo so che tu stai cercando il nome dell'attaccante che in questo momento non mi viene in mente e so che l'hai trovato Shurano bravo Shurano mi veniva il nome molto interessante anche lui tra l'altro è un bel un bel un bel giocatturino molto interessante scusami scusami ma c'è una nota di valore molto carina su Nuremberger che è esattamente come i vari Dresdener e altri cognomi che sono tutt'oggi comunque presenti in queste città sono cognomi letteralmente inventati ad hoc così come ce ne sono tanti in Italia soprattutto nella zona nella zona del Friuli e del Veneto per quello che è successo durante la seconda guerra mondiale cioè a causa dei bombardamenti e purtroppo lo sterminio di diverse famiglie vennero creati ad hoc questi cognomi per sottolineare appunto la provenienza della famiglia stessa e lui quanto pare è uno dei discendenti questa roba comunque molto molto bella se dovesse consagrarsi con Nuremberger sarebbe una storia bellissima e mi sa che ce la sta già facendo consagrarsi con Nuremberger perché a parte che è diventato titolare in pochissimo tempo e poi tra l'altro quando sono andato a Nuremberger che era lo stesso viaggio di Regensburg tra l'altro se mi è stato erato in Sbuona te l'ho già chiesto se mi è stato in Sbuona e che nello store c'erano un sacco di robe sue cioè c'era veramente pieno c'era tipo c'erano le foto con quegli autografi dei giocatori che sono sostanzialmente sostanzialmente ovunque oh erano tutte piene tranne la sua la sua colonia era vuota quindi cioè immagino che che goda di una certa popolarità anche in anche in città sono molto felice molto felice a proposito di popolarità volevo arrivare a parlare prima abbiamo detto che l'anno scorso il Nuremberger non andava bene quest'anno invece ha cambiato un po' qualcosa invece San Paolo è indubbiamente la miglior squadra del 2021 della Svete Bundesliga c'è qualcosa di meglio di San Paolo in questo momento che campionato che sta facendo e che ha fatto anche l'anno scorso nella seconda parte di stagione sì no beh diciamo che la crescita è stata costante e probabilmente possono scalare anche qualche altra marcia anche a livello a livello proprio di numeri di giocatori vabbè a parte già avere uno come Burgstaller per la categoria è tantissima roba però è una squadra che gioca un buon calcio che vabbè a livello di tradizione e folclore sappiamo benissimo essere una delle squadre che anche quando navigava in acque molto meno tranquille di questa aveva parecchio seguito e non soltanto all'interno della Germania cioè diciamo gran parte del turismo calcistico se va in quelle zone è per vedere giocare il San Paolo e soprattutto per godersi le partite allo stadio però oltre a ciò abbiamo una squadra che sicuramente è in grandissima crescita che abbiamo detto in Burgstaller è un gioco pazzesco per la categoria ma che comunque più in generale è cresciuta è cresciuta molto è una squadra che io sinceramente all'inizio della scorsa stagione o anche a gennaio stesso non vedevo potesse avere una crescita del genere poi c'è stato anche il mezzo colpo Eric Smith dal Ghent che era un giocatore che sembra potesse potesse anche andare a fine una squadra con ambizioni un po' più alte di sbagliate si era parlato anche lo stesso a Burgstall se non ricordo male e è andato lì quindi chiaro che poi quando vai a prendere dei giocatori che possono svoltarti la stagione e loro già ce ne avevano altri in casa che comunque stanno crescendo benissimo è chiaro che l'obiettivo l'obiettivo per il San Paolo e anche per quest'anno non è assolutamente la promozione diretta perché serve comunque un grandissimo colpo però se qua è il solo discorso che facevo prima se quei due tre quattro fattori iniziano a girare tutti insieme al momento giusto e in canali quelle cinque sei vittorie di fila te la porti molto vicina sicuramente tra l'altro sono appena uscite le formazioni della Germania la prima Germania di flic contro l'Einstein musiale titolare statement oserei dire mi viene questa parola un po' un po' inglese e parlando invece del San Paolo io direi che la cosa notevole secondo me anche qui non mi viene mai il nome dell'allenatore Schulz è cresciuto in casa è uno di San Paolo e era l'assistente allenatore di Luca in precedenza è stato messo lì come capo allenatore e qualunque alto allenatore dopo un giro ne è andata come quella dell'anno scorso che ha fatto sarebbe stato esonerato ma malamente esonerato perché in San Paolo sembrava non si potesse neanche salvare a momenti sembrava una squadra destinata forse a salvarsi allo spareggio se fosse andata bene poi a gennaio sono successe due o tre cose è arrivato Marmouche dal Fosburo che adesso vedremo a Stoccarda e lì veramente in un attimo è cambiato tutto e poi la dirigente secondo me è stata bravissima a anzitutto riuscire a tenere diciamo così una squadra comunque di alto livello poi è anche vero che in quell'inizio si era fatto male Borges-Taller quindi erano un po' complicate le cose però bisogna anche saperle costruire le squadre secondo me e senza un grande budget come è il come è il San Paolo arrivare secondo me a potersi permettere una rosa di questo tipo prendendo un giocatore fortissimo per la categoria come Marcel Hartel che secondo me secondo me è al di sopra cioè penso che sia un giocatore che con la zwaite c'entra veramente poco cioè un giocatore di un livello di un livello incredibile è veramente anche qui uso la parola di prima statement cioè il San Paolo quest'anno corre per la promozione e non potrebbe essere altrimenti sì sì assolutamente infatti quello quello che ho detto prima io del fatto dell'obiettivo non è la promozione diretta è inquadrato sempre nel discorso del che c'è qual è la timeline della squadra anche questo è un concetto molto molto cestistico e per l'evoluzione che hanno avuto loro magari non dovrebbero salire quest'anno poi vai a vedere come giocano vai a vedere che in attacco tra l'altro hanno preso il giocatore che secondo me il tipo di giocatore che sarebbe appunto Simon McKenock che abbiamo visto pure in Italia con il Palermo che per questo cioè per le categorie inferiori è sempre un'ottima soluzione ovvero questa palla alta in condizione di difficoltà il giocatore alto lui se non sbaglio supera anche i due metri che te la tiene là e fa salire la squadra quando serve che veramente in realtà è una soluzione molto pratica anche per squadre devono salvarsi in Bundesliga o in qualunque campionato esatto diciamo che Sandro Wagner ha fatto scuola da questo punto di vista col Darmstadt qualche anno fa veramente è una cosa che fa tutta la differenza del mondo e poi sì Artel è un colpaccio per la categoria un giocatore che non avrei pensato potesse scendere in realtà io mi aspettavo che al massimo che scendesse delle squadre puntava in altissimo neanche in alto e invece ha accettato la dimensione San Paoli che fa capire anche quanto comunque sia buono il progetto che stanno portando avanti e non era assolutamente scontato ripeto perché è veramente un progetto nato non dico dal nulla però insomma poco tempo fa era veramente imprevedibile tantissimi altri giocatori chiave a me piace un botto il centrocampo appunto che ho preso Jackson Irvine che piccola nota di colore è molto simile allo stereotipo di un pirata e con il logo del San Paolo la bandiera con non mi viene il nome Jolly no come si chiama aiuto no Jolly Jolly Roger no forse no Jolly Roger può essere va bene insomma la bandiera dei pirati la classica bandiera dei pirati Jolly Roger esatto ci sta particolarmente ci sta particolarmente bene e tra l'altro in The Pokal nei sedicesimi c'è una partita fantastica che vedrà di fronte due squadre di culto uno è il San Paolo e l'altra è la Dinamo Dresda che è arrivata quest'anno in è tornata quest'anno in 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 Zvaite dopo un anno in dritte che è stato abbastanza un anno casuale perché la retrocessione fu ricordiamo nell'anno del covid con la squadra messa in quarantena che dovete giocare sostanzialmente ogni due giorni è un termine che non mi piace usare però chiaramente un campionato falsato in quel momento lì però diciamo che c'erano anche abbastanza delle esigenze comunque sono tornati subito ci ha messo ci ha messo poco a stare giù si sono pure tolti la soddisfazione di vincere il derby con Lanzarone stocchi in trasferta per 1-3 ci sono due giocatori che mi fanno impazzire che sono l'attaccante da Ferner e Konigs Durfer che sono due giocatori che secondo me sono molto molto interessanti poi è un ambientino mica male Dresda non deve essere facile andare a giocare non so quei tifosi non lo augurerei a nessuno molto molto calda poco democrile ci chissà quello sicuro su quello ci siamo molto poco da dire però un altro giocatore molto interessante che hanno preso quest'anno e tra l'altro giocando già molto bene è Julius Cade che è stato preso dall'Union centrocampista centrale che 22 anni tra l'altro quindi anche anche in futuro secondo me ne sentiremo parlare ne sentiremo parlare soprattutto in ottica in ottica in ottica Bundes perché sta facendo un'ottima stagione fino adesso e beh chiaro qua vi hai detto giustamente tutto quello che era successo prima oltre al caos legato al covid la spinta vera della squadra è questa curva bellissima in generale tutto lo stadio che che porta sempre avanti sempre avanti la Dinamo Dresda è una delle piazze più calde del calcio tedesco e sicuramente l'apporto anche che sta dando quest'anno i tifosi che cioè adesso a parte tutto il resto rivedere i tifosi allo stadio è una roba bellissima quasi fa strano sentire sentire i cori sotto dopo tutto questo tempo però per una piazza come Dresda per una squadra che comunque ha sempre sentito il calore dei tifosi in questa maniera è è una spinta e può essere veramente decisiva e tra l'altro ha di fatto vinto tutte le partite ha pareggiato con l'Hamburgo uno a uno la seconda la seconda giornata ha perso l'ultima con il Padermont 0-3 in casa però il Padermont l'aveva battuto nel primo turno di David Boccal poi vabbè ha vinto il derby come detto ha battuto Ingolstadt è una squadra da seguire poi anche qui sai come comincio ma non sai come finisce però è una realtà molto interessante secondo me ora apriamo un po' il capitolo nobili decadute perché è un po' quello che stanno un po' aspettando tutti penso e partiamo dal Verder Brema che in questo ultimo periodo di mercato ha subito veramente una una rivoluzione e sono partiti Sargent Eggestein che è partito Augustinsson Moeval dell'ultimo giorno e sono stati anche periodi importanti perché a Salé Weiser è arrivato dal Leverkusen è arrivato soprattutto Marvin Dux che si è presentato con una doppietta Anfang sappiamo che pratica un calcio super offensivo e diceva Rob nell'intro sono un po' vittima di tutto quello che gli sta succedendo intorno però guardando la rosa adesso a bocce ferme secondo me cambia tanto cioè la differenza di lavorare a mercato aperto con una neoretrocessa con tantissimi giocatori che non conoscono il loro futuro e lavorarci quando la rosa è lì cristallizzata definita secondo me è veramente un altro mondo sì assolutamente ma si è già visto in realtà l'ultima partita con Lancerostock che con tutto poi che ancora il mercato non era del tutto chiuso e quant'altro già capire quali sarebbero stati i giocatori che sarebbero rimasti a Brema e quelli che invece non sarebbero rimasti a Brema chiaramente fa la differenza cioè Dax pure è il classico giocatore che potrebbe tranquillamente essere un giocatore di una squadra che lotta per non retrocedere in Bundes anzi io credo che se tu vai dal Furte e dici lo vuoi del Dux alzano subito la mano per favore potremmo completamente averlo ci penso esatto esatto no ma poi sono rimasti anche cioè Pavlenka per dire secondo me poteva tranquillamente avere un buon mercato giusto per dirne uno ma sì ma anche Toprak Vejkovic per carità non hanno fatto la stagione della vita l'anno scorso comunque sono giocatori di una categoria superiore la difesa è di buono ottimo livello cioè senza ombra di dubbio da questo punto di vista tu li vedi come un progetto come un'accozzaglia per me un'accozzaglia no nel senso prima dell'ultima giornata di mercato con tutto quello che sta succedendo intorno a loro avrei detto forse perché comunque non se la passavano proprio benissimo però ecco questa rivoluzione come abbiamo giustamente intitolato può portare può portare i frutti sperati sinceramente sarebbe una delusione grandissima per il Werther non risalire quest'anno e sarebbe anche un gran peccato non rivedere Brem una piazza come Brem in Bundesliga per tutto quello che è rappresentato però come al solito qua N fattori il campionato è molto lungo io credo che alla fine il Werther riesca a passare a passare in Bundesliga anche per via diretta mi sentirei di dire perché la qualità media è molto molto alta per carità avranno perso giocatori importanti però comunque molti sono stati sostituiti altrettanti importanti come abbiamo detto sono rimasti credo ci sia tutto per vedere un Werther un Werther ripromosso in Bundesliga visto anche quello che è successo nell'ultimo turno e le certezze che sembra sarà trovare la squadra io aggiungo anche che secondo me si sono portati giù dall'alto dei giocatori molto interessanti come Romano Schmidt che mi sembra che stia acquistando molta centralità come Felix Agu che secondo me era un po' immaturo per la Bundes ma così invece mi sembra decisamente più decisamente più nel suo nel suo campionato non lo so ci sono tante situazioni secondo me che magari neanche loro hanno avuto sono riusciti a gestire come avrebbero voluto e Pavlenka è uno di quelli io non so se Pavlenka farà il titolare o meno sinceramente anche perché c'è un po' un casino con i portieri adesso sono andato via sono riuscito a dar via Capino ma ne hanno ancora un po' adesso sta giocando Zetterer mi sembra che però insomma non è esattamente il non mi è sembrato molto affidabile nelle 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 primissime uscite c'è Plogman che è molto giovane è un classe 2000 era anche alle Olimpiadi tra l'altro ed è rimasto lì e poi c'è appunto Pavlenka non lo so teoricamente Pavlenka dovrebbe essere il titolare però anche se dovesse essere Plogman diciamo che ha senso mettere un un ragazzo giovane e tra l'altro c'è il caso di Friedel che doveva partire e sembra che ci fosse un'offerta in arrivo si dice almeno credo dall'Union poi lui non ha preso Ozipka ex Schalke e Friedel è rimasto lì però ecco lui era un giocatore veramente con la valigia in mano che adesso si trova di fatto con si trova si trova lì legato un altro che secondo me voleva partire era Bittencourt che è un giocatore chiaramente livello Bundesliga però è infortunato da da inizio stagione sostanzialmente ovviamente non ha avuto non ha avuto mercato quindi mi sa che se ne se ne se ne riparlerà tra tra qualche mese è una situazione anche qui abbastanza abbastanza intricata e invece dallo Schalke che segnale hai avuto? lo Schalke secondo me ha detto molto nell'ultima giornata di mercato l'ha detto chiaramente poi il direttore sportivo cioè stava molto chiaro Sheroder ha detto Arith stava mandato via per risparmiare sullo stipendio cioè non si è nascosto però comunque lo Schalke secondo me che paradossalmente era quella che era messa peggio da un punto di vista di societario anche di gestione della società si è mossa si è mossa molto bene perché vabbè a parte Terod che sappiamo essere il mostro della categoria e quindi diciamo soffermarsi di Terod sembra quasi sembra quasi veramente sottolineare l'obbio però ho fatto due acquisti che secondo me sono stati molto molto interessanti uno so che piace a te e te lo lascio volentieri e l'altro è Bülter dell'Union Berlin che comunque a sinistra per la categoria è un colpaccio sicuro due gol e due assist nelle prime cinque partite può essere un giocatore estremamente importante per lo Schalke e certo anche qua guardiamo un giocatore da altissima svaite se non bassa Bundes senza grossi problemi altro colpo senza citare il tuo che te lo lascio sempre Dominic Drexler pure lui giocatore che in svaite ha fatto cento e passa partite quindi diciamo che in molti casi hanno puntato sull'usato sicuro per quanto riguarda la svaite e per un campionato del genere è sempre un'ottima cosa sì anche anche Palson centrocampista del Darmstadt e tra l'altro peccato che c'era anche Danny Lazza capitano 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 sinistra stagione poi lui era cresciuto nello Schalke che non ci ha mai giocato ad alto livello era tornato si è fatto male alla prima partita pensavo peggio sembra che possa già rientrare entro fine anno e glielo auguro sinceramente perché sembrava si fosse distrutto i legamenti del ginocchio il giocatore che faccia molto a me è Salazar Salazar scrive con le z con due z è Uruguagio dovremmo chiedere al nostro amico Simone Gamberini come quale sia la pronuncia esatta che è un centrocampista Uruguagio che ha portato in Europa l'Eintracht Francoforte e l'anno scorso a San Paolo in prestito ha fatto benissimo è stata non dico un po' la rivelazione della Zweite però è un giocatore che secondo me poteva stare benissimo anche in Bundesliga forse non a livello Eintracht ma è riuscito ad accaparrarselo lo Schalke e secondo me crescerselo un anno in Zweite e poi portarsi in Bundesliga sarebbe veramente un grande un grande plus però anche qui secondo me comunque vale il discorso fatto per il Werder cioè come dicevi tu giustamente c'era un cantiere fino all'altro giorno bisognava risparmiare sugli stipendi e vendere giocatori adesso Graham Mozzis ha la rosa che di fatto ha voluto costruire lui insieme al nuovo direttore sportivo Schroeder ed è la cosa più giusta del mondo secondo me che allenatore e direttore sportivo costruiscono la rosa ora deve allenarla chiaramente portarla su però ora la squadra ha una forma e una fin di autonomia ben delineata e a proposito dei segnali dello Schalke che è un po' il titolo che abbiamo che abbiamo voluto dare è vero che ci sono dei segnali negativi però secondo me ad esempio l'ultima l'ultima partita quella che lo Schalke ha vinto bene secondo me 3 a 1 contro il Fortuna Düsseldorf doppietta di Eterode ma cosa lo diciamo a fare 6 gol in 5 partite cioè mi sembra una squadra che adesso veramente abbia incanalato i binari giusti e poi ora abbiamo detto tante volte anche l'anno scorso le partite dello Schalke non erano secondo me così brutte come diceva la classifica almeno fino a che non subivano il gol del 1 a 0 no assolutamente ma secondo me in generale per delle retrocessioni così importanti così come per il Werder appunto la cosa più importante è avere il tempo di lavorare e tornare stabilità cioè come abbiamo detto per il Werder prima per lo Schalke uguale questa è una squadra che oggettivamente ha dei giocatori di categoria superiore ma anche di buon livello della Bundes l'hai detto tu prima giocavano in calcio comunque tutto sommato discreto anche in Bundesliga poi a livello di fragilità mentale qua neanche Freud probabilmente può metterci mano però la squadra è certamente molto molto interessante e io credo che soprattutto adesso poi per quanto succederà nelle settimane a venire questa è una squadra che appena trova un minimo di stabilità faccio fatica a credere che se non incaina cioè la partita di Usseldorf che per carità non sta vivendo anni bellissimi dopo la reazione ma comunque ha ancora dei giocatori che aveva in Bundesliga che sono di buon livello è indicativa perché Terrold è a parte che ha fatto quasi un gol per ogni punto in classifica lo Schalke il resto comunque è una squadra molto interessante Fortunato di Usseldorf non ne parleremo oggi però ha segnato il mio amico Shinta Appelkamp che avevamo segnalato nella prima puntata e quindi possiamo dire anche questa volta che Bundesliga porta bene e ve l'avevamo già detto tante volte ora ora lo sapete e invece parliamo di di chi di segnali ne sta mandando ancora un po' di incerti non hanno bene capito neanche loro ovvero l'Hamburgo ovviamente io ho intitolato nuovo anno stesso Hamburgo perché dopo la prima partita mi ricordo che l'opinione generale era sì il solito Schalke che butta via le partite e l'Hamburgo quest'anno invece sembra essere una squadra più solida che gioca meglio così ero abbastanza convinto che quella vittoria dell'Hamburgo fosse un po' casuale non ero convinto che sarebbe stata una vittoria che ti svoltava ed effettivamente vinta la prima poi tre pareggi una sconfitta Robinho nell'entro ha detto non stanno facendo malissimo però sinceramente io per quello che mi aspetto dall'Hamburgo quest'anno ovvero devi dominare il campionato sinceramente non sono molto ottimista tra le tre decadute grosse considerando prima c'è anche quella che vedo peggio sì sono d'accordissimo è vero che nonostante tutto non hanno avuto un calendario dei più agevoli perché comunque quella messa peggio in classifica con cui hanno giocato è l'Aidenheim che ha i loro stessi punti però è anche vero che secondo me alcune partite cioè penso magari a quella contro il Darmstadt che è fin da due pari e c'era la possibilità di fare il bottino pieno mi sembra l'ennesima occasione sciupata che stiamo ormai dicendo da un paio di anni che all'Hamburgo mi manca sempre quel qualcosa in più per arrivare quantomeno guarda se non è promozione diretta a giocarsi lo spareggio e sì la vittoria con lo Schalke del primo turno è stata una vittoria sofferta e casuale ma poi il problema grosso secondo me lì ad Hamburgo che è tutto quello che trapela poi fuori dalla stampa già il segnale di mandare via Onana che era un grandissimo prospetto e è andata a giocare una squadra che i prospetti li sa valorizzare molto bene come il Lille fa capire tanto ma poi quello che è successo insomma successivamente è veramente assurdo cioè la questione Leisner è una roba che non deve succedere sì facciamo riassunto delle puntate precedenti perché se lo fosse perso Tony Leisner che un anno fa di questi tempi nella partita di Dave Beppocal con la Dinamo Adresa persa 4 a 1 era salito in tribuna per prendere per la collotta così proprio un tifoso della Dinamo che non gli stava facendo i complimenti per la partita e si è beccato una bella squalifica mi sembra 5 o 6 giornate quest'anno cosa è successo praticamente sono trapelate degli screenshot delle chat in cui sostanzialmente parlava male della società dava contro al suo stesso club sostanzialmente non l'idea più brillante è stato messo fuori squadra poi alla fine le parti hanno deciso di venirsi incontro di risolvere il contratto da persone quantomeno mature ecco questo possiamo dire che è la miglior fotografia dell'Hamburgo degli ultimi 4 anni forse no perché è successo anche di peggio però rende 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 abbastanza l'idea oserei dire ah anche il derby perso col San Paolo non riescono per vincere il derby ne ha vinto uno degli ultimi 7 sì vabbè la situazione la situazione è veramente cioè sembra quasi sparare sulla croce rossa il problema è che anche qua molte volte ti chiedi come sia possibile perché veramente andando a prendere i nomi andando a prendere l'unice che viene schierato poi anche i colpi che fanno ogni mercato quando è possibile che questa promozione non arrivi e poi invece puntualmente c'è sempre qualcosa negli ultimi due anni è stata veramente buttata alle ortiche la possibilità di arrivare il suo promosso cioè la roba che non ti aspetti da una squadra che prima di quella famosa annata non era mai stata in svaite cioè incredibile sì pensare veramente al declino è abbastanza scioccante oggettivamente diciamo che una volta che tocchi il fondo puoi solo risalire ma l'alternativa è che puoi anche continuare a scavare evidentemente l'Hamburgo ha scelto di scendere con la pala nel pozzo e provare a fare il buco più a fondo eppure in tutto questo c'è qualcuno che sta pure andando peggio perché l'Hannhofer è probabilmente la squadra che ha avuto l'inizio di stagione più difficile possiamo tranquillamente parlare di crisi dalla retrocessione di due anni fa non ha mai dato neanche la sensazione di poter competere per una promozione l'anno scorso si era visto qualcosa ma comunque hanno deciso di ripartire da zero hanno venduto Dux come dicevamo prima che è andato al al Werder Brema e tra l'altro trovo anche lì aveva fatto una scelta molto particolare sull'allenatore e qui con la teoria del risparmio direi che non c'entra molto diciamo che l'annover si è un po' scavato la forza da solo prendendo Zimmerman come allenatore cioè nel senso ovviamente è una scommessa scommessa che può pagare i giusti evidenti o può non pagarli ad oggi sembra più facile dire che non li stia pagando insomma a me ci vorrebbe un genio però chiaro anche qua tempo ce n'è ancora molto però vedendo quello che succede qualcosa da pensare perché comunque poi se uno va a vedere hanno riportato comunque in Germania un'altra volta Tribull da Norwich che è comunque un giocatore tutto sommato affidabile per carità non sarà più giocatore che è stato un tempo comunque ha solo 28 anni però prometteva molto bene quando era giovane diciamo così poi sono comunque andati a prendersi anche Yannick Demm che l'anno scorso tutto sommato ha fatto una discreta stagione con con l'Holstein Kiel hanno riportato Interseer in Germania a guardare la squadra è strano cioè non diresti che questi sono tra le ultime della della Zweite poi vai a vedere l'unica squadra che ha fatto meno punti di loro è l'Awe che insomma ha un po' delle ambizioni diverse cinque partite hanno subito dieci gol ma la cosa è preoccupa che ne hanno fatti solo due talento offensivo per farne molti di più c'è come quindi questa è proprio la squadra che più di tutti resti resti sconvolto tra l'altro mi è mi è venuta in mente una una cosa no ok non li ha fatti tutti e due Dux ok ok mi sembrava che li avesse fatti entrambi Dux i gol invece uno l'ha fatto l'altro l'ha fatto Hendrik Weidant quindi di fatto l'anno ferito in questo momento il Rosa ha un gol in cinque partite poi tra l'altro cioè le sconfitte sono state veramente brutte 3 a 0 in casa con Lanzarostock 4 a 0 a Darmstadt con un Darmstadt che non stava per niente brillando in 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 quel in quel momento hanno anche sbagliato il rigore se non sbaglio contro il contro il Darmstadt e in più c'è un ambiente che è molto complicato già se non sbaglio non c'erano rapporti di Liaci con quella proprietà con con Martin Kind che è il proprietario della Nofre che si era fatto notare recentemente per per essere uno dei più degli oppositori più strong diciamo così al 50 più 1 aveva chiesto il il permesso diciamo così per poter rappresentare una di quelle famose eccezioni alla alla regola avendo investito tantissimi soldi nel club la votazione ha respinto tutto quanto evidentemente per il pick ha deciso vabbè è molto cazzi vostri e se ne è e se ne è tirato fuori anche qui è un discorso secondo me molto simile a quello del Nuremberg la squadra che a livello di valori non è così scarsa come direbbe in realtà la classifica è vero che Zimmerman è giovane a 41 anni ha fatto benissimo con la Vels in Regional League però risultati purtroppo devi ottenerti perché se no come è facile tra virgolette entrare nel giro promozione perché la quota è bassa tanto è facile entrare nel giro retrocessione perché la quota retrocessione è quella di fatto della Bundesliga cioè si va tranquillamente sui 30 coi 35 36 punti anzi a volte non è neanche detto che ti arrivi a una a una salvezza tranquilla sono scusami anche qua è il classico discorso che facciamo prima ormai squadra ascensore ma adesso rischio che l'ascensore fa un piano ancora inferiore cioè va giù giù l'ascensore stavolta ho un amico che è tecnico ascensore che si occupa di queste cose tra l'altro credo non faccia Zimmerman di cognome no non fa no non fa Zimmerman di cognome e tra l'altro aggiungo che tra quelli allora la squadra in crisi per eccellenza fino alla giornata sua era di fatto lo Steinke che aveva perso tre partite 3 a 0 le prime tre però secondo me lì era ancora un pochino lo shock della mancata della mancata promozione del colonia poi tutto sommato si è un po' ripreso 2 a 2 col fortuna di Isseldorf che avrebbero anche meritato forse poi l'ultima l'hanno vinta si sono si sono tirati un po' un po' fuori però ecco mentre con il fortuna di Isseldorf avevamo detto a inizio stagione che ci sarebbe stato un po' di un po' di dubbi insomma perché non è una squadra particolarmente forte anche se il nostro amico Schintapp è il campo che avevamo segnalato anche lui quando avevamo segnalato i giocatori sta facendo molto bene tra l'altro si è preso anche la 10 dell'Under 21 tedesca facendo anche assist Stoggi bene sono contento per lui doppietta di Mucuoco è intanto più giovane di sempre a segnare due gol con l'Under 21 mettiamola lì anche quella e incastoniamola da qualche parte comunque ecco il discorso è che anche il fortuna ci aspettavamo che che facesse che facesse fatica poi è chiaro che noi adesso abbiamo fatto questa puntata che abbiamo parlato di tutto quello di cui pensavamo ecco tra un mese e mezzo due mesi quando faremo un'altra puntata speciale sbagliata sapete che saranno tutte sbagliate le cose che abbiamo detto perché chiaramente la missione della Svait è quella di smentire tutti quanti quindi adesso Gian ci dice la squadra che secondo lui da qui ai prossimi due mesi migliorerà di più il suo rendimento e quella che lo farà scendere di più secondo me a parte queste cose io come al solito ci prendo zero migliorerà di più io mi sento di dire che poi non è manco questa bold prediction allucinante una tra verde e re Schalke sicuramente che peggiorerà di più è un bel turno all'otto perché ce ne sono diverse cioè pare facile dire il Regensburg però dai diamo fiducia diamo fiducia al progetto io una che non vedo benissimo anche per il modo in cui ha giocato e per quello che è successo in realtà subito dopo è proprio il Karlsruhr che ha vinto le prime due le ha vinto anche abbastanza bene tra l'altro con l'Anza e con il Darmstadt però poi ha fatto delle prestazioni non particolarmente brillanti soprattutto quando è andata a Sandhausen ha fatto uno 0-0 tutto sommato molto molto scialvo e non lo so secondo me è una di quelle squadre che cazzi salvo perché la squadra è assolutamente in linea con il resto del campionato però fatico a credere che resterà insomma tra i primi 7 e 8 ancora a lungo segnatevelo se volete anche giocatevelo perché sicuro vince la svalide quest'anno esatto è molto molto probabile tra l'altro squadre che avevamo parlato molto molto bene nella nostra nella nostra presentazione a qualche qualche settimana fa alla rossa di tutto livello esatto 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 e anche subito pochissimi gol perché se non vado errato credo che sia la migliore con tre gol credo che sia la migliore la migliore difesa loro cioè davanti Norimberga e Aidenheim sì esatto sono tutte tra l'altro l'Aidenheim bellissimo con tre gol fatti e tre gol subiti in cinque partite l'Aidenheim è minimal ma lo sappiamo che l'Aidenheim è minimal io non vedo bene il Paderborn sinceramente ha vinto queste tre però non so non mi sento di dargli particolare particolare fiducia nonostante abbia fatto un bel cammino in questo in questo periodo penso che sia più un momento di forma che altro e invece ti sorprenderò no sto scherzando non ti sorprendo però dico che secondo me la squadra che migliore del più il sorprendimento è lo Schalke perché era una squadra totalmente nuova penso che tipo tutti i primi 15 non tutti però diciamo che di 18 che idealmente anzi sono 20 adesso dei 20 che vanno tra campo e panchina penso che tre quarti siano nuovi quindi c'erano anche degli equilibri da ricercare secondo me da qui a da qui a un paio di mesi non dico che arriveranno in testa tranquillamente però diciamo che ho abbastanza fiducia mi sento abbastanza in fiducia quindi vado con lo Schalke ovviamente quindi hanno prossimo Schalke in dritte liga e cosa abbiamo detto poi il paderborn paderborn in bundes e cos'è che hai dato tu invece il carzuro è in bundesliga giustamente giusto giusto e il verde probabilmente si salva si salva allo spareggio vabbè dai esatto esattamente esattamente d'altronde lo sappiamo la zwaite è fatta per smentirci e noi siamo qui per farci mentire per farci smentire dalla zwaite quindi grazie Gian per esserti fatto smentire come in questi in questi 70 minuti di diretta grazie a te Gian saluto a tutti il podcast ovviamente è disponibile su tutte le piattaforme possibili immaginabili che potete trovare seguitici su tutti i social perché tra poco uscirà la guida alla bundesliga quindi facebook instagram twitter dove volete ci sentite su spotify apple podcast google podcast youtube c'è la newsletter siamo ovunque cercateci e ci trovate sostanzialmente ciao a tutti i cave fertig come ciao a tutti